Botta e risposta sull'abbattimento del ferro di cavallo a Pescara, il sindaco Masci e la sua amministrazione vanno avanti per la propria strada, ma pettinari del Movimento 5 Stelle ribatte il problema verrà solo spostato e si creeranno dei ghetti. Per Masci invece sarà una data storica, l'iter si concluderà in due anni con la seguente ricostruzione di due nuove palazzine. Io ho sempre espresso la mia opinione, intanto perché conosco quei posti millimetricamente, sto combattendo da lì da tantissimi anni, allora io ritengo che abbattendo il patrimonio pubblico si sposta l'emergenza sicurezza di 200 metri, perché ci sono decine e decine di case vuote, lasciate pronte per essere occupate abusivamente dai delinquenti e dai criminali nella vicina via Lago di Capestrano, quindi dando a sposto il problema. Ma al di là di questo che non mi vuole ascoltare nessuno, non mi vuole credere nessuno, abbattere per poi ricostruire è ancora più grave, perché tu abbatti per ricostruire il 90% di quello che abbatti, allora che cosa vuoi fare, che cosa vuoi trasmettere? Quindi secondo me è uno dei più grandi fallimenti della politica miope, che non guarda al futuro ma è solo propaganda. È propaganda per dire ai cittadini, vedi il grande evento, abbattimento del ferro di cavallo, e ricordatevi le mie parole, qualche giorno dopo dell'abbattimento del ferro di cavallo, della ricostruzione, i problemi saranno uguali a quelli di prima, se non peggio di quelli di prima. Dove abbatteremo, e non abbatteremo solo il ferro di cavallo, ma abbatteremo anche altri tre fabbricati che sono pericolanti da 12 anni, a Via Lago di Borgiano, dove abbatteremo, da una parte realizzeremo una piazza, e al ferro di cavallo realizzeremo, al posto di 110 appartamenti, 53 appartamenti. Realizzeremo piazze, realizzeremo case con balconi ampi, con piante, con verde, efficienti dal punto di vista energetico e autonome dal punto di vista digitale. Quindi case che potrebbero stare a piazza Salotto, e invece stanno in un quartiere popolare, un quartiere difficile, dove noi vogliamo fare elevare il livello. Quindi eliminiamo circa 200 appartamenti, ricostruiamo piazze, e gli appartamenti che ricostruiremo, pochi rispetto ai 200 che abbattiamo, saranno appartamenti di grande qualità, dove certamente non andranno persone che hanno a che fare con la criminalità, ma andranno persone di un livello medio, che hanno bisogno di una casa, che pagheranno un affitto. quello che effettivamente bisogna costruire in città.